La cosa importante da dire è che noi non abbiamo provato niente, all'insegno del rispetto nei confronti del pubblico, ci sembrava carino il fatto che voi siete trovati. Perché abbiamo detto, facciamo una roba totalmente improvvisata, ovviamente abbiamo un canovaccio, qualcosa da seguire, ci sono varie attività che faremo oggi, anche la corsa campestre. Anche nominate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.